E con un percorso innovativo, promuovendo cioè un concorso di idee, percorso raggiunto a compiamento, che la Confcommercio di Pistoia ha gettato le basi per una tappa assai rilevante della sua storia, la realizzazione dei nuovi spazi operativi della sede centrale. Con il concorso, chiamato appunto Nuovo Spazio, si è selezionato il progetto più convincente in un'iniziativa svolta in collaborazione con l'Ordine Provinciale degli Architetti e con il contributo della Cassa di Risparmio di Pistoia della Lucchesia. Noi abbiamo pensato come Confcommercio che dopo 25 anni dall'inaugurazione della nostra nuova sede, dei nostri locali, fosse venuto il tempo di riorganizzare gli spazi interni. Ecco che abbiamo voluto in questo modo organizzare un concorso di idee fra architetti e ingegneri per avere spunti e appunto idee su come sistemare al meglio i nostri uffici, i nostri spazi, nell'ottica naturalmente di fornire sempre un miglior servizio ai nostri soci in un ambiente sicuramente confortevole ma anche funzionale. Siamo arrivati alla fase conclusiva, premiamo il vincitore di questo concorso, è un giovane architetto di Roma, Giuliano Valeri, e il suo progetto ci ha colpito per la sistemazione innovativa degli spazi. È un stato, secondo noi, un successo di questo tipo di iniziativa perché ha dato modo a tanti giovani e meno giovani di presentare i loro progetti e quindi noi prenderemo spunto da queste progettazioni per preparare appunto un allestimento confacente alle esigenze del nostro servizio. Un ringraziamento particolare, voglio farlo all'ordine degli architetti, alla Cassa di Risparmio e all'amministrazione comunale di Pistoia che ci hanno aiutato e sostenuto in questa iniziativa che riteniamo molto positiva. La Cassa di Risparmio e Pistoia e Lucchesia cerca in questo momento di appoggiare tutte le idee concrete e interessanti e questa che ci ha offerto, questa occasione che ci ha offerto la Commercio di Pistoia è un'occasione molto concreta che guarda al futuro, che coinvolge i giovani che hanno competenze e idee per dare spazio e forma a una progettualità che interesserà nel futuro questo territorio. In un contesto così difficile, le idee così importanti devono essere appoggiate. Quindi un plauso all'Associazione e ai giovani che hanno vinto il concorso.